bentornati sul canale di cbc afcarena per un nuovo video siamo a climbare la campagna lo facciamo perché finalmente insomma ci siamo sbloccati dall'ultimo stage grazie al condor e ora insomma tra l'altro abbiamo anche la polvere per fare un bel level up al cristallo risonante quindi andremo a potenziarci subito diamo un po di potenza la riguarda guadagniamo tra l'altro sono perso un milione potenza a caso penso ci sia qualche cosa di sbagliato che ho fatto devo aver disequipato qualche pg quindi faremo tutti gli stage abbastanza velocemente penso perché spero più che altro perché il vero problema poi del capitolo 23 cioè i problemi li abbiamo già tutti evitati ora l'ultimo sarà il vero trial sarà il capitolo c'è la fase 23 60 con ancora una volta talia uber mega canse boh quindi vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina prima per essere per rimanere aggiornati sulle uscite nuovi video di controllare le playlist se vi manca qualche guida e di lasciarmi nei commenti se avete qualche dubbio su qualcosa e volete che giri un video su qualcosa quindi cominciamo potenziamo ignora di ignoranza il buon cristallo risonante come vedete andiamo a potenziare tutti i pg ho fatto un danno ok rinforzo boom ok e quindi insomma ci serve ancora polvere per fortuna non scala troppo la polvere è abbastanza gestibile la cosa qui c'è un muro delle leggende questo fuci magari si è incazzato è 41.000 not bad ok 100 gemme non ci dispiace da l'altro dobbiamo raccogliere anche quelle di wukong appena comprato ok quindi partiamo se non mi ricordo male ho tutto equipato per il verso che è il corner su rowan lei all'occhio che serve per attaccare più velocemente quindi abbiamo lucius che 468k 516 perché se li metto questo 889 come mai è così forte adesso lei e lui fa così schifo più che altro non male perfetto c'è ci servirà a questa cosa perlomeno possiamo ripartire a giocare il buon calice è strana questa cosa è detta riga perché dovevo essere parecchio più indietro di potenza però a quanto pare scemira scala più 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 potenza in questo modo molto bene molto bene ok quindi partiamo con questi nuovi ok già c'è un'incazzatissima tasi con scemira e oddio saveras ok io direi di mettere il buon pendragon qui e lasciamo in realtà penso sì penso possa andare bene questa team comp facciamo così sperando che silvina cada su lucius in realtà non ne vuole molto sapere ah se non mettiamo l'autobattle ragazzi lucius non tirerà mai il colpo mi sa che un attimino da studiarsi muoiono tutti con una facilità impressionante ok così non funziona dobbiamo fare così e mettere lucio se vediamo cosa succede viene insta deletato o ulta perché non ulti mai tira la ulti grazie ok non male non male siamo già alle pezze al culo porca di quella miseria allora forse prima ha fatto un crit di troppo no ora ha fatto il crit di troppo fanno sempre lo stesso danno della madonna dobbiamo riuscire a tirare la ulti con ma siamo seri ok no se non funziona così ragazzi abbiamo bisogno del bonus di fazione ok ce l'abbiamo fatto a tirare la prima ulti anche se scemira ovviamente non ne ha usufruito perché era bloccata dal banish mentre di tasi che tra l'altro ma mai vero ma cos'è ok porca di quella puttana giochiamo rowan giochiamo rowan ma è che cazzo ci mettiamo front lui ci serve proprio così dai vediamo che succede a parte rowan tanto va là ok rowan tira la ulti fortissima ragazzi rowan no no ma c'è non ci non ci si crede allora fox tank della madonna fox veramente il tank degli dei tasi se tu morissi non faresti una brutta storia ok ce l'abbiamo fatta così con fox che tanca completi lit at random rowan che tira la ulti e ci riesce a a bloccare tutti i nemici ok ok questo dovrebbe essere molto più banale molto più semplice e un po mettiamo no qui piglia il mega split damage fa un po paura quella mira che abbiamo tolto morbus andiamo in ulti prendiamo un po di def a tutti ok si si con rowan è tutto molto più semplice devo portarla a mitica il prima possibile ragazzi perché con con la signator fa veramente buca in terra ok questo stage era abbastanza banale si vedeva già dalla team comp alla fine senza tasi grossi problemi non ne abbiamo qui c'è tanto bel danno ma la finiamo lì fox sta schivando come un micco proprio veramente una vergogna facciamo tutto abbastanza easy qui parte la combo la portiamo a casa subitissimo un po sì ma addirittura riusciamo a tirare varie altre cose i danni sono sempre meno ragazzi questa è una cosa abbastanza triste che scemira ormai ha fatto palesemente il suo corso ecco il buon arden probabilmente ci metterà un po a pecora qui in questo caso credo che la meglio sia fare così vediamo vediamo come va perché probabilmente dovremmo mettere a taglia a fermare arden anzi no perché fox ferma grandemente arden sapientemente lo lo manda nell'oltre tomba non riesce neanche a tirare la passiva ciao parte la ulti c'è te in ulti che potrebbe fare molto male in realtà no non ce la fa neanche scattarci qualcuno alla grande la quello che mi fa incazzare ragazzi è che c'è la difficoltà di ecco qui c'è tasi un'altra volta potrebbe essere un po un problema c'è un fox di qua che dovrebbe prendere in realtà si ulmus mi sa che fa tanto più male proviamo così c'è la difficoltà che abbiamo nel capitolo 23 quello che mi fa incazzare veramente tanto è che abbiamo una difficoltà assurda e fuori di testa in quei capi in quegli stage dove c'è la talia ma poi per il resto ragazzi c'è abbastanza banale non è niente di di eclatante come come stage cioè a livello di stage forse quello piuttosto secondo me adora cioè il capitolo 23 mette un bello stacco perché è un po come il picco come 9 picchietta a qui il gioco mi ricorda che non gli sto dando soldi da un bel po' e quindi dice oh we ritorna a supportarci nella giusta maniera e dicevamo c'è forse a parte il fatto che si ok il capitolo 23 fa una bella differenza inizia c'è da un bello stacco capitolo 22 era abbastanza facile secondo me quello che su sul quale ho trovato veramente tanta difficoltà fino ad ora parlando più che altro delle team è stato il capitolo 20 che nel capitolo 20 ragazzi c'erano tutti quegli stage con tutti grey borne mostruosi e poi magari con un po' di wilder che ha fatto veramente male mi ha fatto veramente male ora vediamo un pochino ok riusciamo a bloccare comunque con il fatto che lucius non abbia fatto la ulti non mi piace per niente ora vediamo se perché ora arriva johnny depp lì festa finita ok riproviamoci un'altra volta perché praticamente c'è ok ce l'abbiamo fatta a tirare lo scudo questa volta si vede era partito un crit incazzatissimo di di aira che aira ragazzi come scioglie aira i tank qui è partito certo all'estrobo di rosalyn che vuole tirare la ulti ok una volta tirata la ulti di lucius non se ne parla proprio di rispettare i nostri avversari grazie a backline scemira rowan rosalyn è qualcosa veramente mostruoso tra l'altro scoprire che fox possiamo giocarlo tank perché schiva come un dannato è veramente fantastico veramente fantastico incredibile questa cosa ok qui forse fox prenderà un po' di quantitativo di pene oggi ci rompe un po' i coglioni però siamo abbastanza tranquilli fox è riuscita a tirare la ulti che ci dà il baffa alla difesa grande scemira rosalyn vanno tutti molto molto bene guarda la che belluria realmente ci sblocchiamo era un sacco che era fermo ragazzi in quel punto a questo punto penso di riuscire arrivare a 23 60 flawless c'è realtà flawless un cazzo perché però ho già preso il pesce ok questo deve andare qua cos'è il russo romperà un po' i coglioni lo vogliamo sciottare per primo si dobbiamo sogliere poi sperando che ok banish mentre l'ha fatto dove doveva farlo anche se ci ha messo un botto qui arden ci rompe i coglioni in una maniera incredibile sono riusciti a tirare la ulti di lucius e questa è un'ottima cosa parte la combo vediamo poi piove frecce dal cielo e questo è un male infatti perdiamo meno male che avevo detto flawless meno male che avevo detto flawless ok vi dico la verità toglierei fox per atalia che però battaglia non ce l'ho equipato e questo male enorme cioè equipata de mierda ah giusto perché c'ha la schivata e la lasciamo e la lasciamo la schivata sì ci piace anche se non fa più danno di quello che dovrebbe fare però proviamo a fare così questa mettiamo di qua in realtà però il problema di fondo e chi cazzo metton front line ci rompe i coglioni perché non possiamo lasciare rowan mid la facciamo così così almeno prende comunque tutti e li buffa vediamo se riesce a durare dall'altra addirittura ragazzi ha schivato il primo colpo chi cazzo è che me la ferma che che odio queste cose fa uno stan il buon nero qui sì però ci proviamo un'ultima volta probabilmente non è questa soluzione sì nero fa stan ok forse lucius riesce a tirare la ulti rowan dovrebbe riuscire a tirare la sua ulti e quindi a questo punto dovrebbe partire la combo siamo riusciti a fermarlo un pochino meglio a talia fa un male fuori di cervello però non siamo ancora safe infatti perché quella cazzo di aira fa un male disumano ok allora questo è un altro grosso problema come vedete ragazzi a volte insomma si deve anche provare di provare a cambiare la formazione questo ve lo dico già da diversi video su come climb bar in campagna allora vediamo un po' dobbiamo riequipare fox l'abbiamo riequipato a talia non era la soluzione quindi probabilmente dobbiamo cambiare un attimino tipo di gioco forse non dobbiamo lasciare rowan a questo giro proviamo così vediamo che succede dubito che risolva qualcosa a questo punto colpisce aira aira tra l'altro è più grossa del normale mi sembra fox è già stato cancellato dal cielo ci parte la cazzo di combo con ok l'abbiamo tirata giù e abbiamo vinto infatti bastava switchare un attimo questo perché ragazzi siamo riusciti a tirare un auto di lucius prendeva più colpi in realtà abbiamo fermato aira all'inizio con fox questa volta che il che è stato abbastanza strano e ora qui ci ritorna il buon vecchio brutus che era tanto che non lo vedevamo contro ho paura che non ce la farà fox a reggere l'impatto di questo però non possiamo metterlo davanti a brutus perché ci dilania togliamo più roba possibile da davanti brutus perché quando va in immunity fa veramente troppo male fox è già morto non male non male forse forse ci vorrebbe arturo se ci vuole arturo mi sa questa questa fight vediamo vediamo lo proviamo subito il buon arturo perdiamo un po di bonus di fazione però ce la dovremmo fare molto bene a reggere in realtà viene spostato marvagiamente ci muore ruolo nell'immediato fanno veramente un output damage clamoroso clamoroso proviamo a fare così sono le asce di casus che fanno troppo male ragazzi che ci sciottano rowan ok arturo è andato in ulti casus ha tirato la sua ulti incazzatissima no ok no così non va bene apriamo a metterlo qui anche se ulta più tardi mi sa che dobbiamo togliere rowan da lì nel mezzo sì che gli fanno veramente troppo male lucius ulta ti prego lucius non ulta questo non va bene allora ragazzi a questo punto anche se non mi piace per niente proviamo in questa maniera probabilmente dovremo togliere rowan e mettere fox per togliere qualcuno e trovare il modo di metterlo in una posizione un pochino più safe ok rowan riesce a ultare a bloccare già due pg parte la combo ho paura però che c'è quel brutus in immune ok che no vabbè ragazzi arturo è veramente troppo tancoso troppo tancoso che non si rivela essere uno dei personaggi fondamentali e chiave per fare diversi stage questo è un male tra molte virgolette però come vedete ha una capacità di tankiness che c'è davanti a un brutus 167 livelli più forte di noi proprio non ci spaventa minimamente ce lo li abbiamo brutus e questo potrebbe essere un problema perché c'è anche fox e questo allora possiamo mettere rowan mid di nuovo in realtà forse è meglio fare così perché screg è vero che fa un male cane però di qua prendiamo molti più colpi ci hanno bloccato rowan in realtà molti più colpi un cazzo eh cazzo di twitch maledetto qui sto work de merda fa un male stupido lasciamoli qui eh fa il banishment su anch'io è già morta si quando parte l'esplosione del veleno di work possiamo salutare in tronco i nostri pg ok allora lasciamo qua mettiamo così chiantombiamo con work con è successo qualcosa di strano credo ma morti tutti in una maniera stupida mi sa che ci lasceremo qua ragazzi che non possiamo metterci lucius lì ok siamo riusciti a a a fermare perché 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 se n'è andato ah siamo riusciti a stompare anche brutus ok ce l'aveva fatta allora praticamente ci è andata di culo non si capisce come che l'entomb del nostro fox è andato sul fox avversario e a quel punto poi ehm shemira che fa un male ancora abbastanza indicibile single target ha sciolto il nostro brutus avversario e cosa è successo che con la prima ulti di fox abbiamo cancellato l'immunity di brutus se riuscisse a tirare la ulti sarebbe buono ma non credo ce la faccia lucius infatti lucius in fabula comunque i danni ce li abbiamo ragazzi ragazzi da capire un attimo ah giusto è sbagliatissimo il fatto che arthur non sia davanti a shemira e rosaline perché non prendono il buff della signature comunque insomma è andata abbastanza bene anche questa diciamo che allora come team comp è abbastanza è molto forte qui abbiamo un bel team di quelli uber cancer sarà un attimino complicato ok warwick va qua giù quindi probabilmente dobbiamo fare così dobbiamo sperare che l'entomb vada su su nessuno qualcosa mi dice che c'ha una cumbaffa alla fretta eh questo sarà un macello li odio grandemente questi cazzo di fight dove c'è warwick che ti sposta la front line ok regalo allora fox è completamente inesistente dobbiamo mettere a talia perché questa volta talia servirà davvero tanto ci cambierà il game probabilmente lo vinceremo al primo alla prima run questa cosa di dove tutte le volte cambiare l'equip mi fa veramente salire un nazismo assurdo ok vediamo un po allora ci mettiamo in questa posizione forse arthur dovremmo toglierlo però vedremo vedremo proviamo a fare così a questo punto tanto non ci interessa che lo difenda anche se che altro dovrebbe tancare molto di più rispetto a loro è infatti che sono tutti gente front line non è riuscito a tirare la ulti un attaccato veramente un cazzo la taglia si è persa per la strada come vedete comunque non riesce più a fare l'entangle però a questo punto si becca anche in silence ok forse allora a questo punto la soluzione è questa perché a questo punto se non c'è l'entangle fa lo scudo lucius infatti ulta ok ci dà la possibilità di caricare un pochino meglio ah è pur vero però è pur vero io sto continuando a sbagliare perché rowan adesso al calcio al calcio al corno quindi rosaline deve avere il corno questa è l'ultima prova che facciamo se no chiudiamo qua il video perché mi sa che questo richiederà un pochino più di studio rispetto agli altri team cioè agli altri fight che abbiamo fatto abbiamo fatto 20 stage quasi no 10 12 14 stage ok dovrebbe andare bene così a sto giro lucius è stato veramente massacrato ok infatti come vedete rosaline è riuscita subito a tirare ulti però ci ha messo un sacco di tempo che palle che palle perché dobbiamo fermare quel cazzo di di coso di di più no no ok niente via ragazzi arden ci spezza le ginocchia il problema è che ci locca una posizione chiave per poter difendere scemire e rosaline comunque insomma l'ultima prova che mi può venire in mente di fare è giocarci rowan sperando che stanni la facciamo velocissimamente ma non credo risolveremo molto che perché stiamo parlando di nothing comp veramente troppo 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 dannosa nel problema dei dei mauler ragazzi che spesso volentieri fanno sti scherzi da prete comunque insomma la nostra scimira tanca e e fa diverse cose eh no no perché lucius cade troppo velocemente ok niente la concludiamo qua ci siamo stuccato il 23 48 vedremo di riuscire a pulirlo il prima possibile io vi ringrazio di essere stati con me per questo video spero di avervi aiutato magari se avevate qualche stage di questi che vi creava problemi vedendo come l'ho passato spero di avervi sbloccato però non credo che siate stati bloccati su questi stage qua abbiamo passato tantissima roba non aspettavo di più vabbè vi ringrazio essere stati con me e vi ricordo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina di lasciarmi un pollicione app se questo video vi è piaciuto e di commentare quali sono gli stage che vi stanno creando più problemi magari vedremo di risolvere la questione assieme e andate a controllare nelle playlist tutti se avete qualche dubbio se cercate qualche guida oppure lasciate un commento se non trovate una guida che vi serve e vedrò se probabilmente non l'ho girata di girarla io vi ringrazio sono semplicino e ci vediamo prossimamente per un altro video ciao 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 ciao